Immanuel Kant era un filosofo tedesco dell'illuminismo. Immanuel Kant era un tedesco filosofo di illuminismo. Immanuel Kant è tra i più importanti rappresentanti della filosofia occidentale. Kant conta tra i significativi rappresentanti di occidentale filosofia. Kant zelt zu den Bedeutensten vertreten der Abendländischen Philosophie. Rappresentanti vertreten. Significativi rappresentanti. Bedeutensten vertreten. Occidentale Abendländischen. Occidentale filosofia Abendländischen Philosophie. La sua opera, la critica della ragion pura, è stata un punto di svolta nella storia della filosofia e l'inizio della filosofia moderna. Sua opera, critica di caratteristica ragion pura, una svolta appunto in la filosofia storia e l'inizio di moderna filosofia. Sein Werk critica der reinen Vernunft kennzeichnet. Einen wendenpunkt in der filosofie geschichte und der beginn der modernen filosofie. Ragione, Vernunft. Pura ragione. Reinen Vernunft. Caratteristica. Kennzeichnet. Punto di svolta. Svolta. Punto. Wende. Storia della filosofia. Filosofia-storia. Filosofie-geschichte. Fu Kant a creare una prospettiva globale della filosofia, che è stata argomento di discussione del ventunesimo secolo. Kant creò una nuova, globale prospettiva nella filosofia, la quale la discussione ha nel ventuno secolo. Kant schuf eine neue, umfassende Perspektive in der filosofie, welche di discussion bis ins 21. Globale prospettiva. Umfassende Perspektive. E tale argomento influenzò l'intero secolo. Secolo significativamente influenzato. Jahrhundert masgeblich beeinflusst. Secolo Jahrhundert. Significativamente masgeblich. Influenzato beeinflusst. Questo include non solo la sua influenza sull'epistemologia con la critica della ragion pura. Questo include non solo sua influenza su epistemologia con la critica, la pura ragione. dazu gehört nicht nur sein Einfluss auf die Erkenntnistheorie mit der Kritik der reinen Vernunft. Influenza. Einfluss. L'epistemologia. Die Erkenntnistheorie. Ma anche sull'etica con la critica alla ragion pratica e all'estetica con la critica del giudizio. Ma anche dell'etica con la critica, la pratica ragione e l'estetica con la critica del giudizio. Sonden auch auf die Etik mit der Kritik der praktischen Vernunft und die Estetik mit der Kritik der utailskraft. Etika. Etik. Kritika. Kritik. Estetika. Estetik. Giudizio. Utailskraft. Kant scrisse inoltre scritti significativi per la religione, il diritto e la storia della filosofia, oltre ai contributi all'astronomia e alle geoscienze. Inoltre compose Kant significativi scritti per religione, diritto e filosofia storia, oltre ai contributi a astronomia e geoscienze. Zudem verfasste Kant bedeutende schriften zur Religion, Rechts und Geschichtphilosophie, sowie Beiträge zur Astronomie und Geowissenschaften. Skritti, Schriften, Significativi scritti, bedeutende schriften. Religion, Religion, Diritto, Rechts, Contributi, Beiträge, Geoscienze, Geowissenschaften. Lithuanisch Grazie per la visione!